Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, grande giornalista, grande saggista, nonché editorialista ovviamente oggi a Repubblica. Poi parleremo anche del tuo nuovo libro, buonasera Angela Rudizio, inviata della tv pubblica spagnola tv e buonasera Stefano Zurlo, inviato del giornale. Allora avete sentito mentre Giorgia Meloni e Mario Draghi in occasioni diverse fanno un appello all'unità del paese, la Lega non molla e rinnova invece la fiducia a Salvini. Subito dopo la pubblicità. Edzio Mauro Allora oggi Giorgia Meloni ha detto che è necessario lavorare insieme pur nelle differenze per affrontare le sfide che l'Italia ha davanti. Ora tu ci diamo del tu perché siamo colleghi, ieri su Repubblica ti sei chiesto se il governo Meloni sarà conservatore o reazionario. La risposta dopo i primi passi da Presidente del Consiglio in pectore di Giorgia Meloni? Questo invito l'unità alla coesione nazionale sostanzialmente perché è un'unità nella differenza tra maggioranza e opposizione, non va nella direzione di chi vuole spaccare il paese con delle scelte reazionarie. Però dipende dalla Meloni definire che cosa sarà la sua figura da Premier perché il passaggio per tutti naturalmente dall'opposizione al governo è una prova del nove, è la prova dei fatti e quindi dovrà spiegare anche qual è la sua cultura di riferimento perché evidentemente la cultura in cui si è formata e che ha lasciato è una cultura che non è servibile, che non è commerciabile politicamente, quella che viene dal post fascismo. E quindi si tratterà di vedere se fa riferimento a una tradizione conservatrice o se fa riferimento a una tradizione più radicale, più netta, che potrebbe dividere l'Italia e potrebbe sollevare delle opposizioni da parte di diverse minoranze del paese se vengono attaccati i diritti. Per il momento non pare. Tu che idea ti sei fatto Stefano Zurlo? Sarà una destra, questo vale anche per Salvini che è l'alleato di Giorgia Meloni anche se ha perso molti voti ma insomma ha tanti deputati e tanti parlamentari, allora sarà una destra più reazionaria o più conservatrice classica? Ma io credo che l'ambizione di Giorgia Meloni sia quella di costruire una destra conservatrice, una destra che sia in grado di rassicurare che dialoghi con i poteri, che entri nelle cittadelle del potere, nei palazzi, che sappia cosa fare ma anche con chi dialogare e come rapportarsi. E' quello che stiamo vedendo in questi giorni con il governo Draghi, con le rassicurazioni, i messaggi concilianti, a volte sembrano persino troppo concilianti che rivolge a tutte le varie autorità, giustamente alla Nato, all'Europa. Siamo anche in un contesto assolutamente drammatico che nessuno poteva prevedere un paio di anni fa perché è accaduto di tutto. Quindi la mia impressione, come quella di Ezio Mauro, è quella che assolutamente non vuole spaccare il paese ma vuole dare una prova di maturità, di capacità di governo al paese. Una prova di capacità di governo la dai solo se sei realista. Cioè se ad esempio, come lei continua a dire, ti rendi conto che hai un debito pubblico spaventoso e che quindi non è che puoi fare tante mosse da fenomeno contro l'Europa, contro l'ABC, e azzardando delle scelte che sono rischiosissime per il paese e che poi ovviamente la condurrebbero molto rapidamente nell'angolo. Quindi tradotto, i margini di manovra di Giorgia Meloni sono abbastanza ristretti. Comunque la Meloni oggi ha sentito il presidente ucraino Zielensky, ha sentito Netanyahu, che è ex pluripremier di Israele, ha incontrato il ministro per la transizione ecologica Cingolani. Insomma, una versione molto, mi verrebbe da dire, pragmatica e illuminata. E te lo chiedo Angela Rodizio, perché tu conosci l'Italia molto bene, la giri da sempre in lungo e in largo e adesso sei appena tornata dalle Marche, che è governata da un presidente di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni lo ha, diciamo, lo porta a modello questa amministrazione regionale. Ed è lì che ti hanno detto che loro sono pragmatici, illuminati. Quindi che impressione hai di questa Italia che ha votato per la prima volta molto, molto a destra? Non voglio fare la presuntuosa dopo un pugno di giorni di fare un'analisi molto profonda, ma credo che le Marche siano un caso di studio molto particolare, molto grafico. Cioè nel senso che negli ultimi vent'anni, dal 2000 le Marche erano la settima regione manufatturiera dell'Europa, poi c'è stato il crack nel 2011, il crack della banca Marche, poi il terremoto del 2016 e poi alla fine questa regione un po' vira verso il meridione, quindi c'è una crisi di identità e poi un milione e mezzo di abitanti con, secondo me ha detto l'assessore economico della regione Guido Castelli che ci ha parlato, 145 mila aziende delle quali il 96% hanno meno di 10 dipendenti. Voglio dire, questo è il marchio un po' delle Marche dell'Italia, no? Quindi sono piccole aziende che hanno bisogno di assistenza nell'entroterra più che nelle città, eccetera, eccetera. Quindi io direi che da quello che ho capito, questo prammatismo illuminato vuol dire come influenzare direttamente sul territorio quando anche c'è una crisi non soltanto economica se non di identità. Mi sembra che è un bel caso di studio. Un bel caso di studio, Ezio Mauro. E ti voglio chiedere una cosa che non ho capito bene. Perché Giorgia Meloni parla sempre di nazione quando parla dell'Italia, ma è di paese? Perché il fondamento del nazionalismo è la sua vera dottrina. L'Italia prima di tutto, difendere gli interessi degli italiani, che da un lato è qualcosa di ovvio di cui dovrebbe farsi carico ogni uomo di governo, ma quando diventa un'ideologia è una cosa diversa. La nazione è contraposta a che cosa? C'è l'etnos contro il demos, il cittadino contro il membro di una comunità di sangue, di stirpe, di cultura, di lingua. Questa è la nazione. E appunto il tratto di tutta la destra, meno probabilmente Berlusconi, è quella di un populismo nazionalista, sia per Meloni che per Servini. Però hai ragione che il linguaggio cambierà. Perché il linguaggio affonda nella cultura. E la cultura di questa destra, che è una destra radicale, probabilmente dal punto di vista della collocazione la più estrema che c'è in Europa, è diversa da quella repubblicana in cui abbiamo vissuto quei partiti che si chiamavano dell'arco costituzionale fino all'altro ieri. Questo è un partito che viene da fuori dell'arco costituzionale, è nato dopo naturalmente, l'arco costituzionale non c'era più. Però c'è una novità che si rappresenterà anche nel linguaggio come naturale. Certo, è già cambiato. Giurlo? Voglio dire, secondo me, io non mi impiccherei alle formule. Cioè la nazione, per come io ho visto intenderla adesso da lei, per esempio Sabato ha parlato a Milano al Castello Sforzesco, sotto la torre del Filarete, quindi dalle parti di Leonardo da Vinci per capirci, insomma un connubio molto particolare. Lei ha sostanzialmente detto che la difesa dell'interesse nazionale non è contro qualcuno, ma è un fatto positivo per noi. Noi partiamo dall'interesse ma poi andiamo a dialogare e a costruire una posizione comune, per esempio in Europa. Allora se tu togli quel margine di radicalità e diventa la capacità di centrare, individuare, elaborare e poi portare a un'analisi e a un confronto politico. Ad esempio i problemi di cui ci parlava adesso la nostra collega sul Angra, delle imprese marchigiane, che invece oggi spesso si sentono abbandonate, si sentono fluttuare dentro una concorrenza sleale. Il dumping di tanti paesi, l'Europa che non le tutela, tu non vai contro l'Europa, difendi le marche dentro l'Europa. Cioè le porti, questo è il passaggio dall'opposizione al governo, da una destra ovviamente appunto come diceva Mauro radicale, a una destra capace di dialogare. È una forma se vogliamo di patriottismo, anche se il termine è assai ambiguo perché poi è usato da Mazzini, è usato da tante, oggi è ripreso in qualche modo da Calenda, però questa mi pare la chiave decisiva. Voglio sapere se sei d'accordo Ezio Mauro, perché diciamo anche la parola patriotta, siamo tutti patriotti, siamo tutti, no, io non sono nazionalista per esempio, io vengo da una minoranza etnico-linguistica, pensa quanto posso essere patriotta, nel senso che sono una cittadina europea, sono una cittadina italiana, ho radici su tirolesi, quindi diciamo questo discorso è un crinale, Angela e poi Ezio. No, soltanto dire che Dante disse nos cui mundus es patria, cioè noi che la cui patria è il mondo, no? Perché farlo paese. Si ritorna poi, e ci dicevano che erano finite, che erano morte, alla distinzione classica tra destra e sinistra, perché se vogliamo risalire in termini di scuola, la sinistra punta è sull'universalismo, commettendo anche qualche errore naturalmente per quanto riguarda il sentimento di sicurezza dei cittadini e la destra punta è sul nazionalismo, sul particolarismo, però questo problema del linguaggio che tu poni ha anche degli altri aspetti oltre a quelli di cui parlava Zurlo, di cui parlavamo noi, ad esempio quando Meloni fa il comizio a Vox usa degli altri toni, usa degli altri modi, usa un altro linguaggio, usa quasi un altro orizzonte e anche quando dice la pacchia finita in Europa, riprendendo tra l'altro una formulazione di Salvini, la pacchia finita è stato uno slogan che ha usato incessantemente Salvini all'epoca del papete, ecco quindi ci sono linguaggi diversi, io credo che lei si muoverà sulla direttrice sincera, a mio parere, della lealtà atlantica, credendo con questo di scambiare con gli Stati Uniti che sono un paese non ideologico, la libertà di movimento sull'Europa, dove non proporrà, certamente perché non ne parla da tempo, non proporrà un'uscita dall'Europa, ma proporrà una sorta di obiezione permanente all'Europa così com'è, riprendendo temi e formule del gruppo di Visegrad da parte di un paese fondatore che cambia quindi collocazione prospettiva. Zurlo, voglio ricordare a proposito di Europa che oggi il presidente ungherese Orban, che diciamo è un punto di riferimento sia per Salvini che Giorgia Meloni, ha detto a proposito dell'energia che bisognerebbe trovare una politica comune a Bruxelles per far fronte al cosiddetto caro Bollette, e Orban dice il piano tedesco, quello che mette a disposizione 200 miliardi in tre anni per far fronte alla crisi energetica, il piano tedesco è un inizio del cannibalismo in Unione Europea, Bruxelles faccia qualcosa, l'unità europea andrà in pezzi, mi verrebbe da dire da che pulpito, Zurlo ti do subito la parola. Infatti lasciamo perdere il pulpito ungherese, stiamo però ai fatti di quello che è accaduto in questi giorni, perché adesso qui possiamo fare grandi disquisizioni teoriche sulla destra, la sinistra, l'universalismo, il nazionalismo. Io dicevo, secondo me la prova di maturità è chiamata la Meloni, che ha pescato in un elettorato molto ampio, che certo non è quello della destra tradizionale, ma è molto più ampio, è di dare non l'alternativa all'Europa o al potere come era fino ad oggi, ma di creare una visione complementare, cioè di aprire strade parallele che si dovrebbero mettere insieme alle altre. Cosa voglio dire? Che alla fine se tu prendi l'interesse nazionale, ma sei capace di costruire una posizione in Europa, forse riesci persino a ribaltare quello che i maestri della socialdemocrazia, dei verdi, del governo tedesco, adesso hanno appunto fatto, vai da dire, un atto, quello sì, sovranista, perché qui si sono invertite le parti, noi facciamo grandi discorsi, poi il governo tedesco ha deciso di fare per i fatti propri, il che vuol dire mettere fuori mercato le imprese italiane, le imprese europee, perché i tedeschi hanno i soldi, hanno spazi di bilancio e possono permettersi 200 miliardi. E gli altri, alla faccia di tutti i ragionamenti di fratellanza che ci siamo fatti in queste settimane, in questi mesi, rimangono spiazzati, rimangono defilati e soprattutto vengono messi fuori gioco. Allora, forse qui, come dicevo prima, le definizioni contano poco, conta l'interesse comune a partire da un interesse nazionale. L'Italia... Sì, ma se ognuno fa il proprio... c'è un piccolo problema, temo, che se ognuno in Europa fa il proprio interesse nazionale, a un certo punto non è più possibile fare l'interesse di tutti. Certo, in questo caso però si sono invertite le parti, cioè i tedeschi, il governo tedesco, socialdemocratico, verde, si è comportato, avremmo detto, come si comportavano i supernazionalisti, i supersovranisti, i superpopulisti. E i populisti, i sovranisti, i nazionalisti, esattamente al contrario, sono europeisti. Non so se sia per necessità, però questo è quello che sta accadendo sotto i nostri occhi in queste ore. È quello che sta succedendo? Il peso dei problemi e la forza dei fatti costringerà poi a capire che la dimensione delle questioni che abbiamo davanti oggi, l'energia ad esempio, ma la stessa guerra, non è risolvibile dentro il perimetro degli stati nazionali. C'è bisogno di un'autorità superiore, c'è bisogno di un coordinamento maggiore. E quindi l'Europa, che è stata indicata come matrigna, oggi è un'Europa a cui ci si rivolge come madre, a cui si chiede la soluzione dei problemi, l'assunzione dei problemi nella loro dimensione sovranazionale è una soluzione. Che è un grande cambiamento, Angela Rodizio, perché adesso tutti invocano l'Europa, anche chi fino a ieri diceva che l'Europa matrigna. Invece adesso cominciamo forse tutti a capire che se ognuno va da solo e fa per sé, forse non andiamo molto lontano. Ci siamo questi nazionalismi che vengono confrontati con la dura realtà quando vanno al governo, anche questo è un classico dell'Europa di oggi, di altri paesi anche. Io penso che la politica estera non si tocchi tanto, iniziando da qui e da quello che si percepisce che sarà il nuovo governo dell'Italia, cioè sarà più, si vedrà più, credo di vedere, nella politica interna, perché intanto tutti i compromessi già fatti in una situazione come questa, l'emergenza energetica di questo inverno che sarà tremendo, come diceva Shakespeare, l'inverno del nostro descontento, la crisi della guerra nucleare, eccetera, cioè le sfide sono troppo grosse per andare a cambiare la politica estera pensando ai singoli paesi, credo. Ezio Mauro, Salvini resta un po' una spina nel fianco di Giorgia Meloni per la formazione di un governo, perché oggi il Consiglio federale intanto ha espresso fiducia piena a Salvini e hanno chiesto ministeri pesanti. Giorgetti e anche qualcun altro dei massimi dirigenti della Lega ha detto che il ministro naturale per il Viminale, quindi il ministero dell'interno, è Salvini, che è esattamente quello che Meloni non gli vuole dare, pare. Io penso che sia difficile che Salvini ottenga il Viminale, però sappiamo che le trattative per la formazione del governo partono in un modo e si concludono magari in un altro. Vedo che Salvini è una sorta di alleato riluttante, nel senso che la vittoria è, chiaramente lo dicono i numeri, della Meloni, ma Salvini si è abbarbicato la Meloni subito dopo la vittoria per nascondere il calo vertiginoso di consensi che ha avuto, perché i perdenti sono due, il PD e la Lega, questo è evidente a tutti. Quindi Salvini deve risolvere ancora la sua sorte all'interno della Lega e all'interno del Paese, tra le forze politiche. Bisogna quotare il peso politico, che non è il peso numerico soltanto, della Lega dopo questa sconfitta elettorale e vedere come Salvini se lo gioca. Certamente Salvini è in qualche modo azzoppato dal risultato. Nello stesso tempo la partita interna alla Lega non è ancora cominciata, anche perché i governatori... Anche perché non vogliono azzoppare il loro leader nel momento di massima importanza per una trattativa per i vari ministeri, per il governo. Non c'è dubbio, e anche perché i governatori che potrebbero incubare l'alternativa a Salvini, che sono quelli del nord-est, hanno avuto dei risultati, non loro direttamente, ma loro come punto di riferimento. Nel nord-est la Lega ha avuto dei risultati molto pesanti, soprattutto nel confronto della Meloni. E oggi, quando Salvini apre il Consiglio federale, lo apre mostrando la prima pagina di Repubblica di stamattina, eccola qua, con questo titolone assedio a Salvini, il quale ha detto che tira una brutta aria, c'è un brutto clima nel Paese. Ma da chi è assediato Salvini? Da questi problemi di cui abbiamo parlato. Come dicevi tu, tu dicevi una spina nel fianco, è la stessa cosa, ribaltando la prospettiva. Certamente è al centro del turbine post-elettorale, perché dopo il risultato la polvere si deposita e si comincia a vedere chiaro. Ci stiamo arrivando a questo momento. E certamente a un certo punto bisognerà valutare qual è la reale capacità di movimento politica di Salvini dopo questo risultato. Quindi è segnata la sua leadership nella Lega? Come? È segnata la leadership di Salvini nella Lega? Beh, credo che sia molto difficile una risurrezione, sì. Difficile recuperare? Sì. Anche perché il movimento di Bossi, la corrente di Bossi, non è importante come organizzazione, a mio parere. È importante come indicazione di una faglia, di una tendenza, anche di una sorta di richiamo culturale. Ritorniamo a occuparci del nord e degli interessi del nord, come abbiamo fatto, le ragioni per cui siamo nati e come abbiamo fatto per tutto il primo periodo. Stefano Zurlo, perché la domanda è, Salvini e la sua Lega oggi hanno la forza per alzare la posta quando chiedono ministeri pesanti e quando dicono basta con i governi tecnici, adesso ci vogliono governi solo politici? Ma io credo che non abbiano la forza più di tanto di alzare la posta. Ci proverà, ci proveranno, cercheranno comunque di portare a casa due, tre ministeri di un certo peso, dove poi magari i ministri leghisti possano far bene. Questo sarebbe molto importante per la Lega. Dopodiché c'è un problema però, mi pare evidente da tempo, tutti l'hanno segnalato, tutti, di linea politica, ondeggiante, fluttuante, che dà un'idea di minore affidabilità rispetto alla Meloni, tale per cui poi alla fine molti elettori di centrodestra, moderati, non saprei come definirli, ma alla fine hanno deciso di votare la Meloni non per un singolo tratto del programma, ma perché la ritenevano più affidabile. È tutto lì, cioè alla fine è un problema di percezione dell'affidabilità che prescinde secondo me più di tanto dalle ideologie o dalle sottigliezze della politica. Allora Salvini se riesce a interpretare di nuovo questo ruolo, come si diceva prima, che risponde ai ceti produttivi del nord, eccetera, eccetera, con una linea più netta, con meno oscillazioni, meno pendolo e concretezza nell'azione, può sicché, però, è certo che la sua leadership è in grande difficoltà oggi. Ezio Mauro, allora, siccome è uscito oggi il tuo nuovo libro, l'anno del fascismo, sottotitolo 1922, cronache della marcia su Roma, pubblicato con Feltrinelli. Allora, la sinistra in campagna elettorale, anche l'ETTA del PD ha fatto varie volte un accenno sui rischi della tenuta democratica del Paese se vincesse, come poi è accaduto, questa destra. È stato un errore agitare i fantasmi del passato? Si tratta di intendersi che cosa vuol dire e perché si fa questo uso del passato. Intanto io non credo che ci sia un pericolo di tenuta democratica del Paese e anche in questo senso, oltre alla vaccinazione dell'esperienza del fascismo che abbiamo avuto, l'Europa ci tutela in qualche modo. Ma diciamo che sapere qual è il giudizio compiuto, non tirato fuori con le tenaglie poco per volta, del prossimo probabile Presidente del Consiglio sull'esperienza del ventennio di dittatura. È qualcosa di importante non per guardare al passato, ma per guardare a oggi e a domani. Io voglio sapere che cosa pensa il mio Presidente del Consiglio e voglio sapere cosa dirà il 28 di ottobre, il giorno della marcia su Roma. E se fosse ancora il governo nel 24, all'anniversario dell'assassinio di Matteotti, vorrei sapere che cosa pensa e che cosa dice. Ma questo è un problema di giudizio sulla democrazia. La Meloni ha dato dei giudizi, anche rilevanti, però parziali. Prima si è messo avanti l'età, sono talmente giovane che appartengo a tutta un'altra epoca. Ma l'età non è una scelta. Lei aveva l'età della ragione quando ha aderito ai gruppi postfascisti, ai movimenti postfascisti dell'ex movimento sociale, poi di alleanza nazionale. E ha avuto incarichi di rilievo, ha fatto anche il Ministro. Poi ha intrapreso anche lei un cammino che l'ha portata a dare dei giudizi. Un giudizio completo che metta a confronto la democrazia e il fascismo. E dica chiaramente che il fascismo va rifiutato perché è antidemocratico, oltre a tutto ciò che ha prodotto, tra cui una guerra disastrosa, il delitto Matteotti, le leggi razziali. Dire soltanto una ripulsa delle leggi razziali, vorrei dire ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, Angela Rodizio? Assolutamente. Io credo che dobbiamo vedere anche tutti questi nuovi partiti e soprattutto pensare che quelli tradizionali dovrebbero anche avere delle risposte alle nuove domande. C'era quel politico russo del 17 Pavel Miljukov che diceva che i partiti devono essere come le marmite che fanno uscire i fumi tossici del sistema di movimento. Quindi io credo che anche cento anni fa c'è stata una crisi dei partiti e le nuove risposte magari a delle volte non sono così poi precise come vorrebbero. Anche perché dalle crisi economiche ci sono osservatori analisti che dicono che si esce sempre a destra e non tanto a sinistra. Sì, non si possono fare dei paragoni perché intanto i personaggi non sono paragonabili, non c'è un Turati, non c'è un Mussolini, non c'è un Giolitti naturalmente. Però non dimentichiamoci che non si possono fare paragoni anche perché c'era una guerra e quindi c'era quel clima tossico, come dici tu, del dopoguerra dove c'è lo spirito d'avventura, il sentimento dell'azione, la frustrazione degli ex combattenti per non avere una considerazione al ritorno della guerra, il peso dei morti e dei feriti, certamente. E l'abitudine anche a dare del tuo alla morte, non va tenuto presente anche questo. Questo spiega anche l'uso e l'abuso della violenza che lo squadrismo ha fatto prima della marcia su Roma. Ecio Mauro, il PD in tutto questo, perché parliamo appunto di partiti tradizionali, il PD, l'hai detto tu all'inizio, insieme alla Lega di Salvini è il grande perdente di queste elezioni. Qual è il problema, la malattia del Partito Democratico? È un problema di identità, non sa bene a quale base sociale fa riferimento, non sa bene a quale ceto sociale si rivolge o insieme di ceti sociali e quindi non sa quali interessi deve difendere. Naturalmente la storia, anche la storia recente della modernità, ci dice che un partito di sinistra, riformista, quindi un partito di governo moderno, finalmente occidentale ed europeo, dovrebbe unire la speranza dell'emancipazione dei ceti più deboli con la spinta alla modernizzazione del Paese, all'innovazione dei ceti più aperti al cambiamento. Però il PD si è appiattito su una dimensione di governo, ha sostenuto, anzi potremmo dire che è stata la spina dorsale del governo tecnico, ma questo era forse indispensabile, pensiamo che l'hanno sostenuto anche Berlusconi fino all'ultimo momento e Salvini. Il problema è che ha introiettato quella politica, dimenticando che doveva mettere in campo la sua politica, la sua cultura, i suoi valori. E che forse deve, non so, deve tornare a cercare anche la Rodizio. In Spagna governano i socialisti del PSOE, no? C'è qualche cosa che il PD dovrebbe imparare dall'esperienza spagnola? Intanto quelli sono al governo, voglio dire, quelli della Spagna, no? No, io credo che magari fare una rigenerazione, credo che va un po' anche verso questo adesso il PD italiano, e poi pensare tanto ai giovani. Io credo che loro sono il futuro e tanti di loro non vanno a votare. Io ho trovato questi giorni, come in Spagna peraltro, che i giovani non votano, non si fidano più. E credo che questa è la grande sfida che hanno i partiti tradizionali o no, ma soprattutto quelli tradizionali. Come possono essere questi? Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché oggi molti politici, anche Giorgia Meloni, hanno parlato di Francesco D'Assisi. Guardate. San Francesco D'Assisi, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, seminò dappertutto pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi. Con queste parole, Papa Bergoglio ha sintetizzato il senso delle celebrazioni in occasione della festa del Patrono d'Italia. Concetti ripresi ad Assisi dal Presidente Mattarella, che ha invitato a non arrendersi alla logica di guerra, che consuma la ragione e la vita delle persone, e rischia di avviare il pianeta verso la distruzione. Mai come oggi, gli appelli di Papa Francesco e del Capo dello Stato sono apparsi così urgenti. In questo momento sono in corso nel mondo 59 guerre e l'invasione russa dell'Ucraina è solo l'ultimo di un lungo elenco di conflitti. Dall'Afghanistan alla Libia, al Myanmar, alla Palestina, alla Nigeria, sono molte le popolazioni per cui la guerra è la tragica normalità. Alcuni di questi conflitti vanno avanti da decenni. In palio ci sono il possesso di risorse strategiche, come in Africa, oppure come in Afghanistan, Libia, Ucraina, gli interessi geopolitici delle potenze globali. Il nostro attuale destino è di essere svegliati ogni mattina dall'annuncio di un altro passo verso la catastrofe globale. Siamo in chiusura. Grazie Stefano Zurlo, grazie Angela Rudizio, grazie Ezio Mauro. Ricordo il tuo nuovo libro pubblicato con Feltrinelli, l'anno del fascismo, sottotitolo 1922, cronache della marcia su Roma. Grazie spettatrici e spettatori. Io adesso vi lascio a Giovanni Floris al suo di martedì, quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani, 8 e mezzo. Arrivederci.